Da oggi inizieranno settimane ruggenti per il mercato. Partiamo dalla Serie C dove sono ore decisive per le sorti della società del Pescara. Sebastiani attende la risposta di Navarra e intanto apre l'entrata di una cordata francese. Sul fronte panchina Tesser e Caserta rimangono in pole, ma si valutano anche le piste che portano all'ex capitano Ledion Memuschai, Andrea Chiappella e Cristiano Lucarelli. Capitolo mercato, in uscita salutano il portiere Manuel Gasparini, Romano Floriani Mussolini, Gianmarco Cangiano, Federico Accornero, Salvatore Aloi, Andrea Capone e Michele Masala, con l'esterno sinistro che si trasferisce al Giuliano con il Pescara che avrà il 50% della futura rivendita. Si muove anche il Pineto con il DS di Giuseppe al lavoro per rivoluzionare l'attacco. Dopo l'addio di Giambè sarebbero sul piede di partenza anche Diego Gambale ed Emilio Volpicelli. Per sostituirli piacciono il crotonese Giovanni Bruzzaniti e Luca Fabrizi, ma la concorrenza è folta. Intanto manca solo l'ufficialità per l'arrivo di Ferdinando del Sole. In uscita si ascoltano offerte per Mattia Foglia e Stefano Amaddio, mentre si cambia in porta con Simone Mercorelli che saluta e Francesco Marone che arriva dal gladiator in Serie D. E proprio in Serie D ci spostiamo. Il notaresco attende la fumata bianca per la permanenza di Alex Forcini, mentre il Chieti perde due senatori, a Metfalla ascolta la Vigor Senigallia, a Cosimo Forgione e vicino all'Avezzano. In entrata si valutano il portiere fuori quota, Fedele Iovino, proveniente da Città Sant'Agata e Vincenzo Visconti. Intanto l'ex nero verde Alessandro Battisti è ufficialmente il nuovo DS del Roma City. Dopo i colpi in attacco, l'Avezzano guarda anche alla difesa, vicino l'estremo difensore Pasquale Pane dall'Avellino. In eccellenza colpo d'effetto del Mociano, dopo due stagioni alla Maceratese vestirà giallorosso l'ala destra Ferdinando D'Ercole. Chiudiamo infine con la promozione. Il penne si regala il ritorno del centrocampista Gianluca Iezzi. Il pianella chiude col botto con l'arrivo dell'ex real guardiavomano Luca Gagliardi. Il favale si rinforza in maniera importante con l'acquisto dell'ex capitano della Sant'Egidiese Lino Petronio. In terra frentana il tecnico Marco Appignani va verso la conferma sulla panchina del Lanciano, mentre l'ex dirigente del Chieti Alessandro Mancinelli sarà il nuovo vicepresidente del San Giovanni Teatino.